Consiglio Comunale all'Aquila, dopo quello straordinario sul commercio in presenza, si torna su piattaforma e non senza qualche polemica. L'Aula Villagioia è vuota, a parte il Presidente del Consiglio Comunale Tinari, vuoti banchi di maggioranza. Tutti collegati online, tra l'opposizione si vedono invece Romano, Cimoroni e Masciocco. A tenere banco però è sempre la crisi di maggioranza. Tre assessori della Lega sono per ora senza deleghe e non pare rientrare la vicenda. Nonostante filtri il voto al bilancio, in quanto ci sono provvedimenti della Lega dentro per SM, questo non significa nulla dal punto di vista della risoluzione della crisi. Hanno capito la loro debolezza. Oggi la maggioranza praticamente non esiste più. In Giunta hanno difficoltà a deliberare e a fare soprattutto delibere sostanziosi. Allora che cosa fanno? Restringono il dibattito. Perché è meglio restringere quello che è il diritto alla partecipazione piuttosto che aumentare quella possibilità di discutere gli atti importanti per la città. Oggi è evidente che la crisi di maggioranza, la problematica del numero legale, il fatto che non si riesce comunque sia a mantenere una certa calma all'interno della maggioranza ha portato di nuovo alla videoconferenza. È un passo indietro. L'Aquila se lo può permettere? Io credo proprio di no. Si attende senz'altro anche un'evoluzione delle situazioni dei comuni chiamati al voto a Vezzane Chieti, dove continua il braccio di ferro tra il carroccio e il resto del centrodestra. L'ultima parola dovrebbe spettare a Fratelli d'Italia, che si esprimerà attraverso Giorgia Meloni, attesa venerdì in città. Bocche cucite, intanto nella Lega non parla nessuno. Il consigliere Lelio De Santis intanto attacca una crisi tattica, dichiarata per ragioni di politica regionale e di supremazia tra Lega e Fratelli d'Italia. Ma intanto dice, ciò che accade sul piano politico è incredibile, assurdo sul piano amministrativo, mentre per Paolo Romano di Italia Viva tutto rientrerà. È sotto gli occhi di tutti la battaglia che si sta svolgendo ad Avezzano, una battaglia molto dura che vede il centrodestra molto in difficoltà, sia per quanto riguarda la Lega che per quanto riguarda Fratelli d'Italia. È chiaro che avrà dei riverberi a livello regionale, a livello locale, a livello comunale, credo che rientri tutto, sia semplicemente un gioco delle parti, ma il problema reale, quello che rimarrà purtroppo anche per i prossimi due anni, è che di sostanza a casa se ne porta poco. E la città ormai è stanca e stufa di vedere questi teatrini della politica.